Diciamo che gli olandesi sono da Verstappen, Ferrari, ora lui da dove arriva? Eccolo qui, un applauso per qualcuno arriva dalla rabbia saluta a divertirsi in Italia. Eccolo qui, un applauso per noi. Eccolo qui, un applauso per noi. L'anno ha approssimato più o meno un passato Bustago, sono presso sull'alba i primi concorrenti, quindi ormai è questione di minuti. Chi volesse sul proprio telefonino seguire www.millemiglia.it c'è la trucking online. Mentre ancora stilano le Ferrari moderne, quando ho il tributo Ferrari, riesco a vedere ancora un'altra F40. Immaginate quanto è da venduta e che grande successo abbia fatto quest'auto e quante se ne sono ancora in giro e ne usano volentieri. Il mio GPS sta segnando in questo momento la vettura numero 2 che è di un equipaggio bergamasco, anche se sul confine. E' un po' di anni che ricorrono, riuscire a far parte dalla top.